Ciao a tutti ragazzi, io sono Dan e benvenuti in questo nuovo video per la nuova serie di Farmi Simulator 2015 Oggi sono qui per chiedervi su quale mappa volete che la faccio Avevo già fatto un video del genere, ma non vi avevo lasciato scelta per dire Cioè, non... Eh, se vuoi Vi avevo chiesto e basta Questo Consigliatemi le gole E... Adesso invece sono qui e vi dico Una mappa Cioè, vi consiglio e vi dico le mappe che Io avevo pensato, poi voi... Anzi, mi fa Molto più piacere se voi mi dite una mappa che non è di queste Allora, la bijornome con la base di Farmi Ho messo qualche Piccola immagine così Giusto per... Per farla vedere Bello Comunque, c'è la bijornome in paleo Per me C'è la no name map Di agi L'ammergauer alpen di... Nubsi Molto... Molto bella secondo me Un'altra mappa fatta molto bene per il 2015 La 2.2 La 2.2 C'è la Silent Valley Sempre fatta da Bandit Ecco qua E' molto bella Anche questa è rimasta un po' invariata dal 13 Però... Anche questa è molto molto bella secondo me Abbiamo la... Wild Bakhtal Che in pratica... Qua abbiamo questa mod che gira tipo Non vorrei frega niente Però abbiamo... Diverse zone Una mappa abbastanza piccolina Io stavo cercando mappe abbastanza piccole Eh... Per cui non ho... Non sono andata a prendere la... Pure reverse e cose del genere Perchè cerco mappe piccoline E quindi... Preferirei mappe piccole che le consigliaste Comunque... Allora... Eravamo rimasti qua Adesso ve ne ho detto questo Abbiamo la Alpenthal C'è proprio per il 2015 Mappa che ho... Già visto E' abbastanza bella Perchè io la mappa non la provo E' abbastanza bella E' rimasta... Totalmente invariata dal 3... Dal 13 si A parte un po' il BGA Si qualcosina Ha cambiato E... Ehm... Ehm... Siamo già finita Comunque io ragazzi Adesso ho trovato sotto un vecchio Sotto la cartella di Famine Si metto al 2013 Pensate Il... Questo qui è il TTV 7250 Black Dittemi se quello originale di Famine Quello che si ha solo se si compra il gioco Dittemi che... Se volete che ve lo presento Poi c'è la Old Thousand Che è la miglior mappa che consiglieremo Per il Farming Simulator 15 Non so... Ehm... Volevo chiedervi Vedete però Ah... Belle... Specifica proprio Ehm... Non so... Ditemi voi Poi anche la Old Thousand E' bella Secondo me E poi C'è la The Alps Che ho lasciato per ultima Perchè Non dico che la sconsiglierei Cioè Sarei più tentato a non prenderla Ma... Si sarei più tentato a non prenderla Perchè è tutta... Sì vabbè Per la legna Vedete va bene Sono belle queste stradine Soprattutto adesso c'è una sorta di moralistica In... In... Farming Perchè qua c'è tutto il chilometro Ehm... Ehm... E' bella Soprattutto l'ho messa per questo Però sono quasi tutti i campi d'erba Adesso non so se c'è qualche immagine Vedete poi le stradine da fare sono belle Se abbiamo un trattore come l'Ot28 Si sfrutta Dentro solpo O anche solo Quando il terreno è coltivato Così il patato l'erpega L'erpice Eh... Lo sente Per il resto abbiamo anche una zona di campi Non so se adesso c'è qualche immagine Vediamo Ecco qualche immagine è stata un po' meglio Vabbè lasciamo perdere Qua Da quando è un 939? Ah no è un 724 Scusate Pardon Sembrava il 939 Perchè una delle 930 Ci picco Eh no finisce qua Comunque è una mappa Adesso vediamo se c'è qualche immagine Adesso vediamo se c'è qualche immagine Ehm... Si vedete la mia velocità di internet No perchè c'è il penta Ehm... 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 Bella però secondo me troppo troppa erba Ehm... Se... Comunque vi dico che Agus sta lavorando molto ai suoi Fender Quindi non so Non vedo l'ora Quindi direi che iniziamo la serie con quelli lì poi Adesso vi chiedo davvero di consigliare una mappa ragazzi perchè... Ehm... 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 Ne ho davvero bisogno perchè sennò sarei indeciso Ehm... Per... Per... Per cosa giocare Ecco Ovviamente mod ne abbiamo Vabbè qui chiudo tutto Spero che l'abbiate viste Mod ne abbiamo abbiamo la C'è... Si Allora... My Games Mods Mods Abbiamo Tutte queste mod Siamo sul 118 mod 116 mod Ehm... Alcune non verranno utilizzate come probabilmente Ehm... Il new Holland D475 Ma... Detto Il... Il JohnDiar DZ... Si... Il JohnDiar 6R Che mi son perso Questo è tipo un video Aggiornamento Ecco 6400 140M Che è fatto malissimo Ehm... Quindi la map boiable object Solo se abbiamo da usare la Ehm... 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 No... La... Com'è che si chiama? La... Old Thousand Poi per esempio ce ne sono alcune sulle Fue la... Giusto Money Mod Queste cui per dire Non sono Mod Fino qua Perché... Sono script Quindi... Anche questo Anche questo Ce ne sono tanti che sono script Sono solo 22 di script Quindi... Fate conto tutti gli altri Tranne gli script Sono... 96 95 94 Comunque siamo sulle 100 mobili Quindi... Consigliatemi voi... Consigliatemi voi la mappa Io... Come vedete Se ho rifiuto Adesso riapro Non ne ho di mappe Perché sarebbero le prime Dato che sono le più pesanti Ehm... Non ne ho Quindi... Vi chiedo vivamente Di consigliarmene una Se no... Mh... Se volete dei video Di farming Come piacerebbero a voi Datemi tanti Commentate Iscrivetevi Cioè no iscrivetemi No cosa dico Ehm... Mi sembra di fare l'altro Ehm... Commentatemi Commentate Datemi tanti consigli E... Vedrete che così Otterrete quello che volete Sia mappe Che mod Che tutorial Che tutto Adesso Io mi guardo Qualche bella mod Da presentarvi Da... Non è tutto? Ciao a tutti Scusate ragazzi Mi sono dimenticato che Tra le mappe Che io consiglio C'è anche la Bergic Profonde V2 Cosa almeno sottovalutare E... Quindi niente Scusate se ho fatto quest'ultimo pezzo Ma manca questa Ciao